Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale YouTube. Oggi vi mostreremo come aggiungere un altro account su Facebook. Iniziamo. Per prima cosa, apri l'app Facebook sul tuo dispositivo. Assicurati di essere disconnesso. Poi, tocca ad accedi a un altro account. Infine, inserisci le informazioni di accesso per l'account che desideri aggiungere e tocca ad accedi. È tutto. Non dimenticate di mettere mi piace. Condividere e iscrivervi al nostro canale per altri tutorial. Grazie per aver guardato.